Salve a tutti amici e benvenuti nel mio canale, oggi ragazzi come potete ben vedere siamo qui su Farming Simulator 19 nella mappa No Man's Land Finalmente ragazzi, finalmente ho scoperto che cos'è che provocava quei seri bug che abbiamo riscontrato lo scorso episodio Come vedete non ho tolto la season, non ho tolto la geo, niente di tutto ciò La mod che provocava danni era la mod dell'usato In tantissimi mi avete risposto e vi ringrazio siete stati gentilissimi dicendomi appunto che era la mod Infatti se io adesso vado qui funziona ragazzi, no aspettate che ho schiacciato per sbaglio Ma funziona, funziona ragazzi, funziona che bello Finalmente possiamo lavare i nostri mezzi e non abbiamo tutto buggato Per la questione invece pecore mi avete detto e io questa cosa sinceramente non la spevo e vi ringrazio nuovamente Che le pecore fanno, qualcuno mi ha detto mi sembra, comunque primavera massimo inizio estate Che producono lana, il resto dell'anno non ne producono E' una cosa normale, non è un bug, bene sono contento I polli non sono buggati, sono contento, i cavalli vabbè sono semi buggati Ma penso sia proprio una questione non so della season sinceramente questo penso di sì Però poco male devo dire, bene sono contentissimo La prima cosa che sicuramente voglio fare è testare sempre che lo trovo Eccolo qui Allora qui dobbiamo però farlo finire Ebbene qui finiamo Allora oggi ragazzi a questo punto compriamo decisamente le mucche Compriamo le mucche perché a questo punto penso che ne valga la pena comprarle Sono curioso troppo di testare la idropulitrice Vedere se si pulisce Vediamo Yes Finalmente possiamo pulire i nostri mezzi Anche perché erano belli belli zozzi Specialmente il Beurer e il Fiat Agri Erano belli zozzi Benissimo Allora mezzo bello pulito Allora che dite iniziamo a comprare intanto le mucche Poi eventualmente No aspettate ma andiamo intanto in gioco avanti veloce Perché devo far fermentare l'insilato Anzi a proposito di insilato Devo andare al biogas a chiuderlo A chiudere il nostro bell'insilato Siamo al 100% Chiudi Ok d'ora in poi possiamo direi almeno almeno iniziare a mandare avanti il tempo veloce Tanto mi sembra che non abbiamo nulla disseminato O si Ah no tutto coltivato Ok non abbiamo ancora nulla disseminato Bene qui sta finendo di coltivare Allora iniziamo a mandare avanti il tempo veloce Fino a che qui non cresce il tutto Ok 8 del mattino del terzo giorno di autunno Ci ho voluto un po' sinceramente Allora apriamo il silo Devo verificare gli animali perché sicuramente Eh sono a zero completamente Devo andare assolutamente A sistemare i miei animaletti Perché se no qua mi muoiono Io lo so già Allora Qua ci sono parecchie entrate dalla tenuta Che sinceramente non so di che cosa si tratti Ma va bene Ok raga ho sistemato già i polli e i cavalli Cioè i cavalli devo dargli solamente la paglia E poi ci siamo Sistemiamo un attimino le pecore Che sono proprio quelle più malandate di tutte Dobbiamo dargli assolutamente fieno e acqua Perché è proprio a zero l'acqua Ok raga diamo la paglia ai nostri cavallini E poi dovremmo esserci Perché mi dici che la produttività è il 52% Boh vabbè si ripristinerà la produttività immagino Allora acqua gliel'abbiamo dato Abbiamo dato tutto Ora direi che ci concentriamo sui cavalli Sulle mucche Più che altro capire dove mettere Il nostro recinto Credo che lo metterò vicino a quello delle pecore Però sinceramente non ho ben idea Una cosa che però voglio fare prima delle mucche È questa Allora iniziamo intanto a vedere Tu hai finito immagino Sì tu hai finito Sei andato anche eccessivamente oltre Direi che iniziamo a cambiare seminatrice Perché quella piccola amazzone Non credo potrebbe più sostenere diciamo L'ampiezza dei nostri campi no Quindi credo è arrivato il momento Assolutamente direi Assolutamente Di cambiarla Allora vediamo cosa c'è dentro Qualche semino Sì Eccoci arrivati allo shop Allora Stacchiamo la nostra bella seminatrice Qui scendiamo un attimino Verifichiamo un attimo Se è da riparare Immagino di sì Due ore di lavoro 38 giorni di età Va bene Vendi Per quanto 20.000 No non male Cavolo non male Abbiamo venduta praticamente per nuova Alla fin dei conti Allora vediamo un po' Che seminatrice possiamo prenderci Raga Non ho la benché minima idea Premetto raga che non sono per niente un amante della vaderstad Delle seminatrici vaderstad Ma tutto sommato In realtà potrei prendere anche la lencam Che mi piace di più Ha meno Ha più capacità di semi Ha più ampiezza di lavoro E richiede meno cavalli 150 cavalli Questa ne richiede 180 Ah perché questa coltiva Questa forse no Questa non coltiva Esatto Però noi il coltivatore Tanto ce l'abbiamo Che ci frega noi di coltivare nel frattempo Prendiamo questa Abbiamo bisogno effettivamente di più ampiezza Più che di Di lavorazioni in più Allora Di seconda mano 34.000 euro risparmiamo Quindi andremo a pagare Praticamente 72.000 al posto di 107 Che direi Caspita non è affatto male Allora compriamola perché tanto ci serve Bene Questa l'abbiamo comprata Seminatrice ci siamo Certo non ci basteranno forse troppo i soldi Per l'acquisto delle mucche Ma una seminatrice raga Assolutamente ci serviva Perché Comunque l'ampiezza dei nostri campi Inizia a richiedere una seminatrice Decisamente più grossa e ampia Ok raga Eccoci in farm Prometto che appena finiamo di seminare Questo Burer Lo lavo Perché è proprio a necessità di essere lavato raga Ho notato che è già rotto Accidenti Ricarichiamo tutte le Le cose che ci sono rimaste in giro per la farm Accidenti Gira soli dobbiamo seminare Non dobbiamo seminare Frumento e orzo Raga che testa E mo E mo che si fa Bisogna noleggiare una semi Una piantatrice Perché io comprarla La piantatrice sinceramente raga Non credo ne valga proprio troppo la pena Perché scusate Io adesso Quale A parte i girasoli No tutto il resto Devo usare la seminatrice Non devo usare la pianta La piantatrice la dovrei usare solo per i girasoli E se io tolgo i girasoli E cambio con qualche cos'altro Cioè tipo Non lo so Un qualcosa che Posso seminare Diciamo Guardate Ho cambiato Al posto dei girasoli Ho messo il frumento Che non ce l'avevamo E qua vediamo Se io provo a mettere i girasoli Sì i girasoli poi aumentano Ok 1.8 Quello è diminuito leggermente Mi pare di capire Così almeno possiamo Usare la seminatrice raga Tanto comunque di paglia Abbiamo sempre bisogno Il frumento alla fine È una cosa che va Anche per i polli Quindi alla fin dei conti Il frumento è sempre comunque Molto utile Quindi Iniziamo a dispiegare La sciura qua Allora proviamo Un attimino a lavorare noi Vedere Ovviamente non fertilizza nemmeno Però va bene Chi se ne frega Ok Lavorare vedo che lavora Però aspettate Spegniamola Stacchiamola Ci mettiamo sopra il Fiat agri Allora Veditela un attimo Come Come vai Devo dire che comunque Tanta roba raga E sta l'enchem Ok E si fertilizza E si semina Il frumento Benissimo Iniziamo a seminare Il frumento E nel frattempo Con il nostro Burer Bisogna Prima di tutto Andare anche a scaricare Accidenti Quanta roba Abbiamo da fare Dobbiamo andare a prendere L'insilato Per fare La razione vista Dobbiamo prendere Il cassone da carico Mi sa che avremo bisogno Di un prestito Per questa puntata Perché Forse abbiamo azzardato A prendere la seminatrice Raga Non lo so Mi viene sto dubbio Oh finalmente Sto povero trattore Vede la luce del sole Mamma mia Ok Ok ho riparato tutto Raga Così almeno siamo a posto Siamo tranquilli Allora che ne dite Iniziamo a fare Quello che dobbiamo fare Vediamo Innanzitutto Dobbiamo comprare Il recinto Allora raga Sinceramente Vorrei cambiare un attimino Siccome costa Veramente pochissimo Costa come il pollaio Vorrei prendere Il pascolo Dei bovini Al posto che La stalla proprio Possiamo Metterlo qua Raga Che qua Credo sia Veramente Un affarone Da mettere Eh raga L'abbiamo messo Di qui c'è l'ingresso Oh l'ho messo pure dritto Meno male Qua c'è il load Delle Dei Degli animali Allora abbiamo speso Solamente 10.000 euro O quindi ci rimangono 10.000 euro Per comprare Delle eventuali mucche Adesso io non so Se sinceramente Questo robo qui Può Trasportare Le mucche Diamoci un'occhiatina Sì Due mucche Può portare Meno male Giusto giusto Infatti ne volevo Comprare due Innanzitutto Poi eventualmente Raga Andiamo Via via O a farle riprodurre O eventualmente Ne compreremo Altro Perché tanto credo Che costino Comunque un pochettino Questo è il nostro pascolo L'ho voluto mettere Un po' più distante Dagli altri Però devo dire Che veramente È bellissimo Qui poi apriamo Immaginavo Che si apriva E qui possiamo andare A sistemare Vediamo se questo Lo possiamo configurare Ok Questo l'abbiamo sistemato Perché poi dovremmo Eventualmente andare A vendere Poi comunque Il monitoraggio Del latte Questo qui Mettiamo anche Questa roba qua Che comunque Ci servirà In futuro Ok Anche l'acqua L'abbiamo messa Ok Eccoci arrivati Al trigger Per comprare Gli animali Adesso Iniziamo a comprare Due mucche Più che altro Vedere Perché con la season Vedo che sono Tutte razze Strane Allora Allora Facciamo così Prendiamo questa qua Questa e questa Marrone Perché questa qui Nera Sarebbe Diciamo La coppia Bruttina Passatevi il termine Di questa qui Marrone Questa qui Costa tanto Però Ha un grossissimo Valore sul mercato Invece questa qui Costa un po' Meno Però comunque Ha un ritorno Sull'investimento Abbastanza buono Quindi non vorrei andare Eccessivamente Oltre quello Che io posso Permettermi Quindi Per il momento Questa e questa Li terremo poi Per un futuro Prossimo Eventualmente Allora Conferma Le nostre due prime Mucche ce le siamo Comprati Però prima di Ritornare Devo assolutamente Noleggiare Due nastri Perché devo Iniziare a caricare Eventualmente Allora Facciamo così Li noleggiamo E buonanotte Devo caricare L'insilato Raga ovviamente Ok raga Sistemiamo Il nostro Amico Qua sotto Perfetto Qua inizia Almeno intanto A caricare L'insilato Poi Quando avrà finito Ce lo riportiamo In farm Ora Andiamo Tanto qua Ne ha da caricare Andiamo a prenderci Le mucche Però Prima di tutto Dobbiamo anche Comprare Il carro Miscelatore Quello che poi Ci servirà Per fare Appunto La razione Mista Allora raga Come carro Miscelatore Ero tentato Sinceramente O a prendere Questo qua Che sono 14.000 litri Oppure Si evidentemente Eventualmente Anzi Prendere Il Lucas Perché sono 18.000 litri Per 28.000 euro Allora compriamo Il Lucas Così almeno Poi Siamo tranquilli Lo prenderei Di seconda mano Tanto per quello Che me frega Compra Ok Allora portiamo Sti due povere Animali Che sono qui Chiusi Già da un bel po' A casa Nella loro nuova Dimora E poi veniamo A prendere Ovviamente Il carro Miscelatore Eccoci Arrivati Al Pascolo Eccoci Pascolo Arriviamo Allora apriamo Qui le porte Del Pascolo Ovviamente Dobbiamo entrare Con il Ah no 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 Fermi Il trigger È lì Che sciocco Eccole Le nostre amiche Guardate Che belle Raga Ora ovviamente Dobbiamo procurare Gli cibo Allora Di che cos'è Che hanno bisogno Le mucche Perché so Che hanno bisogno Di un po' Più di roba Allora Acqua Ci siamo Hanno bisogno Di paglia Razione mista Fieno O insilato E anche Erba Orca Vacca Hanno bisogno Di un casino Di roba Io adesso Erba Non ne ho Perché ho fatto Tutto insilato Questo potrebbe Essere un problema Perché io non pensavo Ci volesse pure L'erba Dovremmo procurarci Dell'erba Dovremmo fare Erba Probabilmente Nel prossimo Episodio Faremo Erba Perché abbiamo Bisogno di erba Ok L'ho rimesso A lavorare Speriamo che Funzioni La ho fatto Un pezzettino Va bene Speriamo funzioni Allora Aspettate che Prendiamo Ok Eccolo qua Che non lo trovavo più Andiamo Iniziamo a Scaricare Un pochettino Insilato sicuramente Dalle mucche Poi restante Ovviamente Piano piano Nel silo E andiamo a farci La nostra bella Razione mista Eccoci Frena Frena Allora Aspettate che Apriamo Così quasi Cancellile Lascio sempre Prende Tanto le mucche Non escono Neanche Allora Dobbiamo dare Innanzitutto Razione mista Eh si Vabbò Insilato Che un pochettino Ne hanno bisogno Ok Insilato Ci siamo Non ne avevano bisogno Neanche poi più di tanto 333 litri Erba Quella sarà Un problema Per il momento Però Vabbè Poi eventualmente La andremo A recuperare Da qualche parte Ok Eccoci a Scaricare Sto Insilato Ehm Occhio Levati Dai Ok Scarichiamo intanto L'insilato Nel frattempo Che l'insilato Scarica Andiamo A prendere Il Carro miscelatore Ok Ecco Bene lo shop Carichiamo Sto Carro miscelatore Eccolo qua Il bel Lucas Che questo Non tradisce Mai Raga Non tradisce Mai Comunque Siamo Destinati A tenerci Il Burer Praticamente Scassato Perché Con tutte le ore Di lavoro Che ha Ehm Scende Talmente Tanto In fretta Che è Inutile Oramai Anche Aggiustarlo Probabilmente Che Cambieremo Burer Ho fatto Una cavolata Prendo Un trattore Usato Perché I trattori E quelli Che mi servono Di più Un conto Gli attrezzi Che anche se Li devo riparare Ogni 3x2 Costano meno Un conto Il trattore Che mi costa Tutto Scassato Per com'è 800 euro Di restauro Allora Aspettate Iniziamo A prendere Anche Sta roba Qua Perché Abbiamo Dell'insilato Anche qua In realtà Sì Servirebbe Un po' Di paglia Eventualmente Un po' Di fieno Scusate Ma al fieno Non c'ho voglia Di andarlo A prendere Quindi Va bene Così Importate Che sia Razione Mista Che succede Qua Perché L'erba È salita Al 266 Litri Ok Mi dice Totale Razione Mista Non accettata Qua E dove La dovrei Mettere Scusate Cioè Non per essere Volgare Ma dove Dovrei Mettere Questa Razione Razione Mista Che io Sappio Ci va La razione Mista Cioè Scusate Non è che Va magari Nel trigger Dell'acqua O della Paglia Ma non Credo E di fatti No Non ci Va Non ho Capito Come Funziona Il gioco Nel senso Proviamo A scaricare Su un Cassone Va Allora Fatemi Scaricare Chissà Se si può Scaricare Qua La razione Mista E vedete Questo Non è Comunque Buggato Proviamo A caricare La razione Mista Su un Camion Tipo Sul Camion E Proviamo A dargliela Col Camion Che Magari Bisogna Di un Altro Tipo Di Trigger Questo Qua Del Del Caromiscelatore Magari Non gli Va Bene Non capisco Perché L'erba E salita All'80% Da dove La sono Presa L'erba Vedete Col Camion Me la Fa Ok E' Questione Che serve Per forza Un trigger A cassone Per La razione Mista Va Bene Ok L'importante Che funziona Non ho capito Da dove Si è Spuntata St'erba Sinceramente Perché Non l'ho Capito Però A meno Che Brucando Per terra Non rileva Che c'è Dell'erba Boh A questo punto Non ve lo so dire Comunque Fortunatamente Abbiamo il silo Che accetta Qualsiasi Raccolto Praticamente Qualsiasi Cosa Anche Con cime Anche il diesel Per dire Quindi Siamo Fortunati Allora Mentre Li scarica Posiamo Intanto Il nostro Bel Lucas Ah Il fieno Guardate Due bale Di fieno Ce l'abbiamo Qua Poi niente Per il Burer Vi farò Sapere Qualche cosina Sinceramente Neanch'io So che fare Con sto Trattore Perché è sempre Scassato Però Vabbè Ma anche per fare Piccoli lavoretti In farm Alla fine Può essere Comodo Un'ultima cosa Che voglio Vedere Però È Eventualmente Se la botte Quella che ho Preso In affitto È ancora Buggata Oppure Se si è Sbagata Andiamo a dare Un occhio Poi direi Che ci possiamo Salutare Niente Raga La botte Non va Acqua Non accettata Qui A questo punto Credo sia Proprio Dovuto Dal fatto Che è colpa Della Della botte Ok Botte venduta Poi Eventualmente Andremo A comprarne Una A questo punto Ricompreremo Quella di prima O vediamo Se trovo una botte Un po' carina Comunque piccolina La scarico La provo E poi Se funziona Ve la presento Ok Direi che per oggi È tutto Nel frattempo Che vi saluto Controlliamo Qui Bene Allora Io vi ricordo In descrizione Trovate i miei link utili Compreso il link E delle donazioni Se volete fare un piccolo supporto Al canale Mi raccomando Vi ricordo Inoltre di lasciare Tanti bei like Se la puntata Vi è piaciuta Per il resto Io ragazzi Vi ringrazio Nel frattempo Posizioniamo Questo trattore Qui Vi mando Ovviamente Un grosso saluto E ci vediamo Al prossimo Video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi